È una rassegna che è stata interrotta e che adesso riprendiamo, riprendiamo confermando tanti appuntamenti, però anche con delle importanti novità. La più importante per quanto mi riguarda è uno spettacolo meraviglioso, visto quest'estate in un festival importante, che riportiamo in esclusiva nazionale, che è Selavi di Mohamed El Khatib, uno spettacolo francese, devo dire, di grande fascino. Quindi, così come la conferma dell'appuntamento con Glauco Mauri, un progetto che stiamo chiamando Glauco 90, perché il primo ottobre il nostro, così, il volto del teatro del nostro territorio compie 90 anni, è bello ospitarlo nella rassegna di teatro contemporaneo, perché contemporaneo e innovativo è questo progetto con cui lo accogliamo. Quindi un ritorno a teatro dal gusto davvero pieno di vitalità, secondo me. C'è questo problema ancora che la dinamica del distanziamento rende praticamente inutilizzabili molti teatri. Su questo stiamo lavorando con la Regione Marche, che ringrazio, col Presidente Ceriscioli per poter più presto risolvere questa questione. In questo caso, appunto, è un trio di teatri, di città che sono unite, sono Pesaro, Urbino e Pergola. Abbiamo voluto, appunto, dare un segnale anche in un piccolo teatro, anche se davvero le condizioni, diciamo, sono molto, molto ridotte. Però, ecco, vuole essere un segnale, un segnale di ritorno a una normalità, devo dire, confortati dal desiderio del pubblico che quest'estate ha affollato nel distanziamento tutti gli eventi che abbiamo fatto e di questo siamo davvero molto, molto lieti. Il primo appuntamento di programma è proprio domenica, perché riprendiamo un appuntamento attesissimo. Infatti mi dispiace e mi scuso con i tantissimi spettatori che non potranno vederlo, perché in questo caso la capienza a 200 posti del Teatro Rossini non accoglierà tutti i fan e tutte le fan, devo dire, di Lino Guanciale, con uno spettacolo molto bello dedicato a Nio Flaiano. Quindi iniziamo già domenica e poi tanti gli appuntamenti fino a novembre inoltrato.